In Italia il mestiere era fatto con pezzi nel codice, facile dire, quando era si alzava il cappello e si bruciava le punte. Bruciando le punte il cappello si evolve e chiudendosi diventa grosso, diventa più forte e non cade più. Molta gente perde i capelli perché i barbieri non sanno tagliare i capelli e bruciare le punte. Questo è molto importante. Qui siamo all'antica barberia Colla, la prima barberia di Milano. È una barberia tradizionale. Come un contadino sa arare la terra, un sarto conosce la stoffa. Una volta si facevano i capelli. Questo è molto importante e faccio il parrucchiere da quando avevo nove anni. Da nove anni adesso che ne ho 82 sono 73 anni che faccio il barbiere. Una volta il barbiere era una cosa molto importante, ora è molto diverso. Il barbiere non esiste più. Ho vissuto un mondo diverso. Il nostro mestiere bisogna farlo bene. Farlo bene vuol dire essere bravi. Voi avete i capelli, non fateli tagliare male. Ho vissuto un mondo diverso. Ho vissuto un mondo diverso.